... Giuliano? No, no, è innocuo, bellezza locale. Dove ci porta questo qui? E lo chiedi a me? Ma dico io, la macchina è mia o tua? Tua. E allora, disinteressati, no? Mi preoccupo io, figurati. L'unica iniziativa che prendo quando perdo qualche cosa è di dire un credo a Sant'Ele. Tu invece devi fare concorrenza alla polizia. Ma chi sei, la segretaria di Perry Mason? Ah, l'altro bell'ambientino. Ah, sto bravo, segnale. Seguitemi. All'arrembaggio, seguiamo il fido Cammamuri. Ma cosa dici? Ah, niente, reminiscenze letterarie, salgari. I bustieri della torre... Grazie. ...